Sono aperte le iscrizioni al corso di qualifica professionale per operatore socio-sanitario. Il corso si terrà a Pesaro e prevede 550 ore di lezioni, 450 ore di tirocinio stage, 10 ore di esami. Scarica la domanda di iscrizione sul sito www.formacopmarke.org o presso Cometa in via degli abeti 120 entro il 25 novembre.